Luigi Picilli, Operation Manager di U-Travel, siamo a pochi minuti dall'ingresso verso un nuovo workshop qui al museo a Pestum. La domanda che ti volevo porre era proprio questa, quali possono essere le nuove ricette su siti quali Groupon per il turismo culturale al giorno d'oggi visto che comunque sono delle nuove attrattive e possono essere nuove possibilità in ottica appunto di turismo culturale? Sì, sono completamente d'accordo, buongiorno a tutti, è davvero una bella sfida provare a promuovere, a vendere beni culturali, attrattivi e naturalistiche beni archeologici online su canali come Groupon, Groupalia che sono dei social shopping, che è una sorta di branca di quello che è il mondo dei social media è una bella sfida come dicevo, purtroppo non sempre il cliente, l'utente che segue le nostre offerte riesce ad essere attratto dalla particolarità dei beni che promuoviamo. Spesso serve promuovere qualcosa generando un appeal differente molto probabilmente vendere da soli beni culturali, beni architettonici non è sufficiente è necessario generare un appeal diverso per attrarre soprattutto l'utenza giovane, quella che è completamente disinteressata in questo momento al mondo archeologico e alle attrattive soprattutto del nostro territorio. Sicuramente è un modo diverso di comunicare e da fare e da prendere in considerazione con l'aiuto soprattutto degli enti pubblici, degli enti di promozione in quanto da solo un'azienda privata non può sobbarcarsi una promozione così forte e così targhettizzata. Sono sicuro che questi incontri come è l'occasione di oggi sono utilissimi per un confronto e per capire quali sono effettivamente le leve su cui andare a incidere, le leve su cui puntare per dare più, maggiore promozione a questo territorio. Grazie.